Delta Spedizioni riduce da un successo importante a Ronco Scrivia il titolo regionale societario di Cross. Possiamo definirlo, visto i brillanti piazzamenti dei vostri ragazzi e delle vostre ragazze, un successo di squadra. E così Romano Romani, visitiamolo nel dettaglio. Direi che è un successo di squadra meritato e molto ricercato perché l'anno scorso ci siamo andati vicini invece quest'anno abbiamo centrato l'obiettivo, l'obiettivo era portare avanti la squadra maschile e la squadra femminile in modo che avessero l'accesso ai campionati nazionali. Così è successo, sono molto contento dei ragazzi e domenica 15 ci saranno i campionati italiani a Campi Bisenzio e manderemo, perché non possiamo mandare di più, 4 atleti maschili e 4 atlete femmine che andranno a disputare i campionati italiani. Parliamo di quelle che sono le attività, aiutaci a conoscere insomma quello che è il filo conduttore di una Delta Spedizioni con atleti e atleti uniti dal comune amore per il podismo ma nel dettaglio generalmente durante l'anno a che tipi di gare partecipate? Il panorama è molto vasto, abbiamo chi partecipa, ti ripeto, alle gare su pista, alle gare su strada abbiamo dei campioni che dopo vedrai, lo intervisterai, Giorgiani è uno dei nostri che predilige le gare su strada, invece dopo intervisterai anche l'Ailaria Pasa che lei è un po' più specializzata nelle gare fuoristrada. Noi come società abbiamo anche organizzato delle manifestazioni sia su strada tempo fa, poi visto che ci sono tante limitazioni, permessi, si fa sempre più dura burocraticamente organizzare quelle su strada, ci siamo dedicati un po' al fuoristrada che è un po' più semplice però è molto complicato anche quello. Guarda, il Tour de Jean è stata un'esperienza per esempio due o tre anni fa, se non vado errato, e ho seguito proprio uno dei nostri tesserati che si era classificato, se non vado errato, sedicesimo, ma sai sono gare di tre giorni, due corri giorni, notte, ma di un livello pazzesco, cioè bisogna fare una preparazione, io penso estenuante sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista mentale. Ilaria, la squadra femminile della Delta Spedizioni è sicuramente caratterizzata dal grande entusiasmo con cui affronta gli allenamenti e le gare, l'ultima in particolar modo è data piuttosto bene, Aronco scrivi. Sì, a Aronco ci siamo classificate seconde grazie ai risultati di alcune ragazze, ma soprattutto grazie all'unione che c'è nel gruppo femminile. Il gruppo femminile in effetti è piuttosto forte, ma forte anche come unione al di fuori della corsa, siamo unite da una passione non solo della corsa, ma di stare insieme, di aggregarci. L'insegnamento del nostro presidente è di fare famiglia, ce l'ha trasmesso, e c'è un gruppo molto unito. Ci incontriamo al di fuori della corsa, facciamo spesso degli allenamenti in comune, insieme, che sia strada, che sia pista, che sia trail, fuoristrada. È una cosa che ci accomuna molto, soprattutto questo legame che poi riportiamo e ribaltiamo in società. Settimanalmente quante volte vi incontrate e quante siete? Allora, noi siamo più di 40 ragazze, spaziamo con età che vanno dai 30 agli over 70, ma questo non è assolutamente una cosa rilevante, perché noi riusciamo a vederci per fare anche degli aperitivi al di fuori della corsa, proprio perché questo ci fa unire e trascina poi dei piccoli gruppetti. Ovviamente siamo dislocate anche in più parti della città, di conseguenza non è facile, in questo periodo del lockdown, ma soprattutto incontrarci. Perciò magari ci sono dei piccoli gruppetti, abbiamo una chat solo femminile, che ci serve proprio per darci gli appuntamenti e poterci vedere. Spesso il sabato e domenica è il momento per incontrarci, oppure speriamo anche che le gare, piano piano, ritornino un po' più frequenti, con le regole da seguire, che ci possano permettere, come domenica è stato un bellissimo momento ritrovarci dopo tanto tempo. Andrea Giorgiani, ripartiamo da quello che è stato l'ultimo successo, una vittoria, come dicevamo con il presidente, di squadra che avete ottenuto a Ronco Scrivia, il campionato regionale societario di Cross, come avete costruito questo successo? Ma ci tenevamo tanto, perché come diceva prima il presidente, l'anno scorso l'abbiamo sferato proprio per una posizione, un punto. Quest'anno siamo riusciti dell'intento e siamo stati soddisfatti e abbiamo fatto quasi un lavoro di squadra e è stato bello avere questo successo qua. Quante volte vi vedete durante la settimana? Come sono strutturati gli allenamenti? Come scegliete le gare del calendario per partecipare in gruppo? La corsa è basata tanto sulla programmazione. In questo periodo qua, dall'anno scorso, è difficilissimo programmare, quindi si ci allena in base a questi appuntamenti che spesso magari saltano. L'incontro con i ragazzi purtroppo avviene poco se non col telefonino e aiutandoci diciamo suggerendo degli allenamenti o comunque programmando questi appuntamenti qua. Come una famiglia? Sì, sì, no, questo discorso qua della famiglia è bello perché comunque è stimolante anche a livello del gruppo. Andrea Giorgiani è un nome storico ormai del podismo genovede. Come nasce la sua passione per la corsa? Come si sviluppa? La mia passione era fin da ragazzino, però poi l'ho dovuto lasciare soprattutto per gli studi. Poi ho incontrato questo gruppo con cui sono insieme da 26 anni e ho sempre continuato con loro. Il piacere di correre è per me stesso, che è la base di tutto e questo mi permette di dare agli altri, alla squadra, il massimo possibile. Insomma, a livello numerico hai tenuto conto dei tanti successi e del numero di gare anche disputato in tutti questi anni? Ma diciamo ho una sorta di rubrica, però la base di tutto è il divertimento. Mi diverto ancora, ho superato momenti magari difficili come tutti della vita, però il gruppo, questa famiglia, gli amici mi hanno aiutato a superarlo e adesso sono ritornato a divertirmi. A questo 2021 che cosa chiedete ancora? Normalità, perché non è possibile andare avanti così con questa situazione qua e la normalità di poter correre e abbracciarsi alla fine della gara e scambiarsi anche semplicemente una bottiglietta d'acqua deve essere la normalità.